Ciao a tutti ragazzi, siamo qui al bar sotto casa a fare colazione e abbiamo balzato l'evento Sony per il fatto che era troppo presto e non avevamo sbatta di fare l'alba per arrivare in tempo per riuscire ad entrare quindi ce la prendiamo con comodo, andiamo lì a evento finito e faremo tutti i video che dovremo fare riguardo ai prodotti che presenteranno appunto comunque non mancheranno notizie al riguardo, appena arriviamo in fiera faremo il tutto nulla, siamo ben riposati, possiamo andare abbiamo spento la sveglia invece di svegliarsi, siamo ben riposati e ci siamo, si parte, primo giorno effettivo in fiera e vediamo cosa ci aspetta e seguiteci, arriveranno tanti contenuti avete qualcosa da dire ragazzi? oggi sono un programmino della giornata, oggi andremo da Sony poi abbiamo un appuntamento da Lenovo, da BQ che fa una conferenza stampa un boot tour con Nokia, cioè un giro della loro zona guidato poi stessa cosa con Huawei e poi abbiamo Wiko e AVM ok, quindi questo è il nostro programma bello pieno si parte, ciao ragazzi ciao, ciao a più tardi